Musica Benvenuti a Liceo Sigonio, l'istituto che visiterete nel periodo in cui soggiornerete qui. Liceo offre tre indirizzi, scienze umane, economico e sociale e musicale. Adesso vi spiegheremo i piani di studio per ciascun indirizzo. Nell'indirizzo delle scienze umane le ore delle materie di indirizzo sono cinque, come pedagogia, antropologia, scienze umane, filosofia. Naturalmente sono presenti anche le materie accademiche come matematica, scienze, italiano, eccetera. Le lingue studiate sono il latino e l'inglese. Per quanto riguarda l'indirizzo economico-sociale vi è un totale di tre ore di materie di indirizzo. Quelle prevalenti sono diritto, metodologia e antropologia. Le lingue studiate sono due, ma tra queste non c'è il latino. L'indirizzo musicale prevede 18 ore di cultura generale più 14 di materie di indirizzo, tra cui storia della musica, tecnologie musicali, musica d'insieme, teoria, analisi e composizione. Per quanto riguarda l'esecuzione e l'interpretazione dei due strumenti obbligatoriamente studiati, le lezioni si svolgono al pomeriggio, ovvero gli studenti rientrano in vari orari durante la settimana. Questo studio è finalizzato alla preparazione dei saggi, che avvengono generalmente durante l'ultima parte dell'anno scolastico. Questo è il laboratorio linguistico, usato anche durante le ore della materia di indirizzo musicale, tecnologie musicali. In molte aule, oltre alle lavagne tradizionali, sono presenti anche lavagne interattive. Grazie. 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 Grazie.